Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del Fall Audio della terza parte dell'interrogatorio a Giuseppe Marchese. Il Fall Audio è la registrazione dell'udienza del processo per l'uccisione dell'imprenditore Libero Grassi. L'udienza del processo si è tenuta a Palermo il 27 novembre del 1995. In questa parte il collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese fa luce su alcuni omicidi commessi durante la guerra di mafia. Mi raccomando se vi piace il mio canale YouTube iscrivetevi e attivate la campanella, in questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il Fall Audio. Possiamo? Dell'omicidio di Inserillo Santo e Di Maggio Calogero. Sa qualcosa avvenuto a Palermo il 26 maggio dell'81? Io l'ho appreso che da mio zio che questo è qua andava facendo domande. Suo zio chi? Filippo. Quindi Marchese Filippo. Andava facendo domande dell'uccisione del suo fratello che erano stati a fare questo omicidio. io essendo che ero interessato in questa cosa perché ero convolto, io ho detto a Mazzio ma come manco non prendo un provvedimento per questo. E io ci sta pensando, io sarò preoccupato con Antonio di Madonia. e poi dopo qualche giorno, parlando sempre con Mazzio, mi disse che praticamente non c'è più, praticamente per Nignò. mi diceva, ma non vuoi dare se ne sanno chi ancora va facendo domande, vuoi? mi diceva, ma chi doveva per Nignò già? Che significa? E per Nignò era un gioco nostro praticamente quando una persona venne solo eliminata. e infatti mi aveva aggiunto che era stato strangolato lui insieme a Di Maggio Calogero perché era sempre un parente di Sio Santino. E a sua volta l'avevano ammazzato dentro, è stato fatto questa riunione, diceva dentro il deposito di Montalto Salvatore che c'era un sacco di acciomeno d'onore di cui il Nino Madonia, il Rotolo Antonino, il Salolo Ecobono, però altre persone mi disse però... Insomma, l'importante, io ho detto che è stato risuolto, che già era per me anche un pensiero ci hanno chiesto se l'antica è essenzialmente a fare uscia vacante, a fare danno. Quindi la causale di questo omicidio per quello che lei ha preso risiede in che cosa? O risiedeva in che cosa? Nel fatto che in Serillo andava in giro... Sì, sì. Andava in giro cercando di sapere chi ha ammazzato il fratello. Chi ha ammazzato il fratello. Lei non ha sentito altro su questa causale. No. Altro triplice omicidio del quale anzi si tratta di due scomparse e di un omicidio sono quelli di Antonino Grado, di Franco Mafara, entrambi scomparsi, e Giovanni Mafara ucciso. Quest'ultimo ucciso il 14 ottobre del 1981 a Palermo. Sa qualcosa di questi omicidi? Sì, ne ho partecipato, personalmente. Si tratta anche in questo caso di omicidi per i quali lei era stato sospettato, aveva subito processi oppure no? No, no, no. Quindi quando li ha confessati non se ne sapeva assolutamente nulla? Sì. Allora vi ha partecipato personalmente, cosa sa dirci di questi, delle scomparse e dell'omicidio? Intanto quando è avvenuto questo fatto? È avvenuto verso la fine dell'81, tra, mi sembra, ottobre. Siccome ci sono delle scomparse, le scomparse rispetto all'omicidio sono avvenute prima o sono avvenute dopo? Le scomparse sono avvenute prima dell'omicidio. E quando? Che è stata, la mattinata. Quindi sono avvenuti nella stessa giornata? Sì, sì, nella stessa giornata. Quindi tutti il 14 ottobre dell'81, perché noi sappiamo la data dell'omicidio di Mafia. Allora vuole cominciare a parlare delle scomparse? E qua devo tornare un momentino indietro, perché qua si intreccia, questi omicidi si intrecciano nel tentato omicidio di contorno Salvatore, di cui non ho fatto parte anch'io del comando quando si ci è sparato. Ed era avvenuto quando questo tentato omicidio? Molto prima, molto prima di Grado. Grado Antonino era il cugino di contorno. Siccome il contorno è riuscito a scappare in quell'attentato che picchierano sempre, quello che si diceva, questi qua si dovevano ammazzare, picchierano tutti vicini. E l'attentato a contorno avvenuto dove? Si ricorda il luogo? In via Giaffar. In via? In via Giaffar. In via Giaffar. In via Conte Federico. Sì. E' successo che la Commissione aveva dato disponibilità, la Commissione intendo Totorreina, Brusca, Calò, Grieco, Madonia, insomma tutti i gruppi della Commissione, aveva dato ordine a Pino Grieco, Scaipuzzerda e il Presti Filippo. I Presti Filippo come si chiamano? I Presti Filippo e Santa Zita praticamente sono il padre Giuseppe, il figlio, il fratello Mario e il padre Giovanni. Eravamo, praticamente, ci è stato dato ordine a loro, perché quando Pino Grieco non era riuscito a ammazzare il contorno, quel tempo si è scatenato l'inferno in Cosa Nostra. L'inferno perché anche noi andavamo di notte, di sera e tutti i giorni, si andava con le macchine cariche di armi, in cerca tutto Ciaculle, tutto Palermo, altre famiglie, i Pularà, tutti gli altri personaggi, in cerca praticamente di ammazzare il contorno. Perché si diceva che si trovava sempre là in zona, che chi è che lo vedeva a destra, chi è che lo vedeva a sinistra. Insomma, dopo c'è stato l'aumento anche delle manie di persecuzione, perché dovunque lo vedevano. Allora, è successo che con questo discorso ci è stato dato ordine alla Commissione, appena preco, e Peste Filippo, padre e figlio, di vedere di... Padre e figlio o padre e figli? Padre e figli. Giuseppe, Mario e Vannuzzo. C'era anche, mi sembra che c'era quella epoca anche Brucia Montagna. E Brucia Montagna? Se sarebbe lo zio di Mario Peste Filippo, fratello di Vannuzzo Peste Filippo. E come si chiama Brucia Montagna? Toto. Toto. Quindi era stato dato incarico a loro? Perché lui era... c'è stato un periodo che era confinato a Milano, Toto Brucia Montagna. Però, esattualmente, era pure a Palermo. Quindi, viene dato incarico di... C'è stato dato incarico a loro, praticamente, tramite e contattare a Pularan Giovan Battista e a Peccionolo Reacono, sempre dalla famiglia di Sant'Ameria di Gesù, dove faceva parte contorno, di vedere tramite Grado Antonino e Mafara, che erano sempre assieme, di vedere se si poteva arrivare al punto di portarlo a complimenti, in senso, o ci pensavano loro stessi a Mazzarocco, o se no, ci davano una battuta a noi, una localizzazione dove localizzare ci pensavamo noi. Praticamente queste cose avviene che loro si interessano e Pularan dice che si stavano interessando. Ma si viene a sapere che contorno con Grado si incontrava e si era incontrata a Cefalò, in un residence. Allora, con questo si è pensato, con tutto ciò che Pularan Giovan Battista si incontrava, con Grado, con Mafara, eccetera, si pensava che lo prendeva in giro. diceva, allora chi si sta piegando in giro perché a noi c'era arrivata la notizia che a questo si incontrava. E Pino Greco qua ci hanno deciso, diceva, non ne arrivano prima, o ne vuoi altre, o ne no altre, qui che si affugano, non sono parecchio. Scusi, una domanda. Antonino Grado e Franco Mafara erano uomini d'onore? Sì, sì. Va davanti. Che succede che io mi trovo una mattina alla caccia estruzze, perché la caccia estruzze era il punto, diciamo, più di concentrazione a noi, di uomini d'onore, perché la caccia estruzze, con i grumenti che c'erano intorno, dentro, dentro, la caccia estruzze, nei giardini, andava a finire direttamente i ciaculli. E là era un punto buono anche per noi, se un domani entrava la polizia e cosa, avevamo possibilità di scappotto, scappotto, se andiamo a dire noi scappare. Succede che, una mattina, viene il marro presto e Filippo, alla caccia estruzze, là si trovava mio zio, Pino Greco, e gli dice che, da un capo ne no altre, c'è un grado con Mafara. Da un capo ne no altre? Sarebbe una tenuta di Presto Filippo. Nella tenuta di Presto Filippo, che era a Ciaculli. Perché si stava mantenendo sulla macchina, che Mario Presto Filippo era venuto con una colfa, che all'epoca c'era una colfa bianca a diesel, che io con questa macchina e colloci sono andato più di una volta a fare dei collochi a mio fratello a Baccellona. Che succede? Mentre che loro stavano mandando via, mio zio mi dice, no, tu aspetta a cacca, che ha bene Totò Cucuzza, che avevano un appuntamento, che Totò Cucuzza doveva venire, quel giorno, la mattina doveva venire, ci sono Giovannone, dicevo gioco picchio, poi ti è dancavo. Totò Cucuzza chi è? Totò Cucuzza è un uomo d'onore della famiglia di Borgovecchio, capo mandamento Nepeppo Calò. Cioè Borgovecchio di cui è capo mandamento Pippo Calò. Sì. Quindi doveva venire Totò Cucuzza. No, Borgovecchio è la famiglia doveva parte, Totò Cucuzza fa parte di quella famiglia. Di Borgovecchio. Sì, il mandamento è Portanova. Benissimo. Dicevo, ritorniamo a Cucuzza. Le dicono di aspettare Cucuzza. Aspetto, dopo un po' arriva Cucuzza, mezz'ora, cioè quarte d'ora. Insomma, aspettare che arriva Cucuzza. Io ho detto, dalle, sono dancavo. Con che macchina arriva Cucuzza? O con che mezzo arriva? Una golfe. Sì, una golfe. A sua volta questa golfe, che era grigia, mi sembra, dopo se l'ha presa mio fratello, Antonino, che si doveva disfare questa macchina e si ha preso mio fratello. Cioè l'ha comprata il suo fratello, Antonino. Sì, l'ha comprata. Va bene. Va davanti. È successo che, arrivando lui, ci avviamo, io avevo la 500, che spesso era la 500 di mio padre, che all'epoca mio padre era la tetante, e stava in una casa, all'entrata di velo appate, e tutti i mattini, mio padre veniva, dentro la caccia e struzzi, che c'erano i giardini, mandarenete, e si passava il tempo in mezzo al giardino, si piantava la verdura, la lattuga, tutte queste cose. E questa macchina era sempre disponibile là, c'era l'incosciente. E allora c'era molto comodo, perché era piccolina, dentro la campagna. Succede che, arrivando là sopra, trovo tutto il suo gruppetto di persone, Lucchese, Giuseppe, Greco, Greco, Skype, Peste Filippo Mario, Greco, Greco Giuseppe Umenuno, figlio del sanatore, e Mezzio, sembra non c'è più altro, insomma, arrivati là sopra, quindi arrivati lei e chi? E Cucuzza. Lei e Cucuzza, arrivati lì sopra, e lì sopra intendiamo sempre in questa proprietà dei prossimi. C'era una vasca d'acqua dove c'era bevuto per le pelle piante. Sì, va bene. Descriva che cosa c'era. Scendendo dalla macchina, entrando dove erano loro, nel suo spiazzo di giardino, c'era già per terra un mafaro con un grado Antonino. Erano lì per terra, che significa? Erano legate, legate per terra, nell'incappettamento come si faceva di solito, prima si strozzavano, dopo la corda si faceva passare dal collo, si piegavano le gambe, e la corda veniva passata tra il collo a tirare, fino alle gambe, in modo che lui, pure che magari ancora era vivo, non aveva nessun modo di muoversi. In più, già quando vengono strangolate, c'è il fatto che si fanno addosso, fanno la cacca, e già quando c'è la composizione, si vede il papà rilassato, rilassato, e già non c'è più. Quindi erano a terra i cadaveri, incapprettati di queste persone. Lei li riconobbe? No, io veramente non li riconobbe, però... Allora chi le disse che si trattava di grado Antonino? Là nel gruppo, e anche quando è arrivato Mario Peste Filippo, quando è arrivato Mario Peste Filippo succede che mentre che loro conversavano, redevano, perché dopo quando si facevano l'omicidio era sempre uno spazio, si facevano l'omicidio giorno per giorno, ed era una passeggiata praticamente. Addirittura si facevano anche gli omicidi con le macchine pulite. Dico io questo per la tranquillità, e anche per la forza dell'odio, si facevano quello che voleva, c'è stato una volta, a Piazza dei Signori e Brancaccio si stava commettendo un omicidio, c'era una volante, una volante della polizia che stava arrivando, appena ci ha visto scendere quella che ha la pistola, quella che ha la scopetta, la volante, che dopo quasi ritornando sul posto dove eravamo, le ha resate, perché la volante ha appena visto scendere, appena ho scoperto, quella che ha la pistola, la volante ha fatto macchia indietro e ha messo a correre, tutte queste cose, perché a quei giorni c'era un viavai, di morti così. Quindi ritorniamo al momento in cui arrivate voi. che ballavano e c'era Pino Greco che sollevava il discorso dicendo che la propria, dice c'era, c'era un rammerallo perché c'è fuori, un mafara che io appendo da loro, che il mafara, Franco, si è messo a piangere a mio zio Fifo, Filippo, dicendo, fa fuori, non c'è niente, questo cuore, insomma, si è messo a piangere, voleva essere perdonato, vale, ci calo di non ammazzarlo. E Grado Antonino gli ha detto, dice, ma come puoi trattare il rumore un'ora, la sala pietra è stocu'inute. C'è quello, non sapevo che già quando c'è la corda a collo c'è poco, poco da fare. E Totò Uzza dice, allora ci mi ho perso il meglio, perché, come dicevo prima, quando uno parte invece di queste cose, è come una passeggiata, vedere godere la gente sull'omicidio. E come anche io, quando c'era qualche omicidio, si rideva, si scherzava, o magari si faceva qualche omicidio, quello prima si sareteva nella sedia, si interrogava, si scedavano qualche parola di schiaffo, eccetera. Insomma, con tutto ciò, questi due vengono caricate su una lambretta che si trova là dentro, da da Peste Filippo e da Giuseppe una lambretta che significa? Una lambretta a ciarruote, da giardiniere, praticamente, una lape. Io mi avvio e me ne vado e... E vengono caricati da chi? E da... Praticamente li stavano caricando, era Mario Peste Filippo con come il nome. Vuole dire il nome esatto di questo minuto? Giuseppe, Greco. Greco, Giuseppe, figlio del senatore. Quindi di di chi? Nome e cognome di suo padre? Salvatore Greco, fratello di Michele Greco. Fratello di Michele Greco. Quindi questi caricano i corpi e li portano dove? Non lo so, si sono avviati in mezzo alla campagna, ma... Nella campagna dei presti Filippo. Là, se si va a scavare in tutta quella tenuta, perché mi è facile trovare dei punti per stabilire, perché di quanto è grande c'è un... diciamo, una cosa immensa. Ce ne sono catavore da mezzo in mezzo con la terra che veramente è come infatti della volta scherzavano di quanti catavore c'è sul gioco a volte che concime di vacche e vacche. Il concime sarebbe che succede che io me ne vado alla caccia e struzzi, me ne scendo di nuovo la macchia, allora lo lascio là. arrivando alla caccia e struzzi dopo poco è arrivato è arrivato mio zio Pino Greco con Giuseppe Peste Filippo e Giuseppe Greco Mennone figlio di Greco Salvatore fratello del senatore succede che mentre che arrivavano noi dove c'era l'ufficio della caccia caccia e struzzi di dietro ci appartavamo là dietro e c'è una casetta in mezzo giardino e ci appartavamo là commentavano dicevano che dice no c'è la maghineida la maghineida Pino Greco e a che cosa si riferiva si riferiva perché dopo siamo andati a ammazzare a a mafare Giovanni alla caccia e struzzi sì quindi lei capisce successivamente che la macchina è quella la macchina è quella si riferiva a mafare Giovanni che succede che Pino Greco mi dice a me a Mennone Giuseppe Greco di andare a prendere la motocicletta e la macchina il nuovo capannone siccome poco distante dalla caccia e struzzi c'era un capannone che era una fabbrica di marmo che era abbandonata questa fabbrica di marmo e questa fabbrica di marmo era di di Tenerello Tenerello Gaetano che a sua volta o era del suocere i vizzi insomma di Tenerello praticamente perché all'epoca la chiave ce l'ha fatta avere lui Tenerello sta a chiave di sto Tenerello Gaetano chi è? abbiamo detto stamattina se lo vuole ripetere è praticamente uomo d'onore di Corso dei Mila uomo d'onore di Corso dei Mila quindi vi dice di andare lì a fare che cosa? a prendere? a prendere questa questa motocicletta e la macchina che tipo era questa motocicletta? era una Giulietta e una una Honda e una Honda ricorda l'onda di che cilindrata fosse? l'onda era 7,50 perché l'onda si girava sui 7,50 1900 siccome in quel periodo ne passavano tante queste motociclette ma mi sembra che era un 7,50 il colore lo ricorda? o grigio o bianco o una cosa del genere che succede che arrivate alla caccia sui 7,50 il pieno greco sale con me nella motocicletta e si pica scoperta nella macchina che nella macchina c'era 38 e un fucile una scoperta una doppietta diciamo che hanno la mozza ci avviamo verso la strada che dicevano loro praticamente che si è messa una camera questi due mezzi mi scusi come li riportate? chi riporta la macchina e chi riporta la motocicletta allora io porto la motocicletta e Giuseppe Greco Mennone portava la macchina e accanto si è seduto Giuseppe Peste Filippo arrivato vicino alla fabbrica invece di entrare subito abbiamo fatto diciamo un giro laico là davanti e abbiamo visto che c'era una macchina posteggiata là davanti e un Mennone davanti dove dentro l'ufficio dentro diciamo la caccia suzze di Mafara si siamo entrati dentro queste betonie che c'erano betonie le chiamo c'erano anche operai là a mezzo perché entrando dopo abbiamo visto che c'era qualche operai però là a mezzo appena siamo entrati io mi ci sono accostato con la motocicletta e dietro alla Giulietta arrivate là dentro loro scendono Pino Greco e Giuseppe Peste Filippo e dopo sentiamo dei spari risalgono e ritorniamo di nuovo alla caccia suzze le persone che erano lì presenti mostrarono di fare qualche cosa vi riconoscono gritarono c'è stato scappa scappa di quelle che erano là però dopo io ho preso da Giuseppe Peste Filippo che dice sicuramente qualcuno lo ha riconosciuto perché lui conosceva qualche operato dell'addenso però non sarà affatto tutto questo problema perché dice vabbè per parlare se un telecom una venente di rire però per sicurezza sempre ci mandava qualcuno per sondare per dare almeno una giustificazione per Napoli che significa per dare una giustificazione per un'altra gli mandava a parlare qualcuno per fare che cosa hanno visto una motocicletta e una macchina inzale invece che vedono una motocicletta che sa ci mettono l'aereo che passava non mettono niente quindi dovevano dare delle informazioni distorte a Palermo di solito quando si cittava qualche omicidio ma quando si trovavano i testimoni a dire sì ho visto io non ho visto niente io non ho visto niente io ero a casa a mangiare io ero accettato insomma tutte queste particolari comunque Giuseppe Presti Filippo le dice che non c'è problema perché ci penserà a lui a far parlare da parte di qualcuno niente abbiamo lasciato loro là e noi i mezzi l'abbiamo riportata quindi avete lasciato loro lì dove nella Calcestruzzi e io praticamente sono riportato i mezzi l'abbiamo riportata al suo posto cioè alla Calcestruzzi alla Calcestruzzi alla 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 fabbrica di Marmo abbandonata quindi a quel capannone abbandonato a sua volta in quel capannone noi spesso lo usavamo anche come camera come viene definita camera della morte camera dove spesso si portava qualcuno per per ammazzarlo perché c'era il capannone c'era tutto deroccato però c'era dopo sotto questo capannone c'era un angolo che formava una istanza e spesso lo usavamo questa come ritornate da questo capannone alla Calcestruzzi a piede perché due passi abbiamo questo cancella siamo ritornati alla io arrivando quando siamo arrivati all'anno non abbiamo trovato nessuno io con la mia macchina mi sono andato ho preso le 500 e mi sono andato a casa di mio fratello suo fratello chi? Gregorio suo fratello Gregorio questo è avvenuto verso l'orario del che poteva essere le due l'una e mezza l'orario diciamo quando rientravano l'operai perché ancora alla Calcestruzzi dopo il pranzo dovevano rientrare ancora l'operai da noi quindi l'omicidio di Giovanni Mafara e gli altri erano avvenuti in precedenza nella stessa mattinata ha detto sì vorrei passare ora a chiederle qualcosa sulla cosiddetta strage di bagheria cioè l'evento in occasione del quale persero la vita di Peri Giovanni Pitarresi Biaggio e Valvola Onofrio e scompare Pitarresi Antonino avvenuto il giorno di Natale del 1981 sa qualcosa di questo episodio? ne ho fatto parte personalmente e ho avuto anche una condanna definitiva a cent'anni quando quando iniziò questo questo processo per il quale ha riportato condanna? nell'immediatezza del fatto o dopo molto tempo? no no a me mi hanno arrestato per un porto d'alme io mi trovavo con è l'arresto al quale ha fatto riferimento stamattina? io ero incensurato quindi è quello del gennaio 82? sì sì gennaio 82 sì ed era per un porto d'armi? no io non c'avevo niente io non c'era nel patente non c'era nel porto d'arm non c'era niente praticamente dicevo quando la arrestano è per porto e detenzione illegale di armi? sì con chi si prova lei? io mi trovo con Peppuccio Spadaro Peppuccio Spadaro figlio del defunto fu Giuseppe sì era un uomo d'onore è un uomo d'onore della famiglia di Corso de Mille della famiglia di Corso de Mille suo padre? pure nella nostra famiglia della vostra famiglia io praticamente è stato che e con noi c'era anche nella macchina Giovanni Inchiappa Giovanni Battista è quella persona di cui ha parlato questa mattina della siciliana si era socio della siciliana prestanome prestanome di di Filippo Marchese di suo zio ci trovavamo nella macchina tutte e tre erano con la mia macchina una Golf e ecc ci trovavamo a passare del via Conte Federico tutto in un tratto mentre che stiamo camminando ho visto dal specchietto del provisore una Giulietta con dei poliziotti e io rallento rallento con la macchina e facciamo differenza di niente camminando piano questi ci soppassano una soppassata e ci imbloccano abbiamo sceso dalla macchina io non mi faccio trovare la pistola addosso che me la faccio scivolare sui sclippini e anche un borsello di cabbese con 15 cabbese espansive cabbese che cosa sono cabbese espansive sono quelle munizioni munizioni della 38 della 38 mentre che stiamo scendendo dalla macchina fanno le perquisizioni che cosa strana che dopo non so come arrivano dice che è arrivata una telefonata una telefonata che c'è una Golf egt con c'è persone sospette nella zona e noi ci trovavamo in quell'occasione a passare di là che succede che a Peppuccio Spadaro gli trovano la pistola addosso la pistola una 108 gli la trovano addosso a me non mi trovano niente infatti quando hanno trovato la pistola la pistola hanno trovato a Spadaro mi fanno a me la seconda perquisizione di nuovo un conciollo e non ci trovano niente io quando vengo interrogato vengo interrogato per porto d'arma di Spadaro Peppuccio mi scusi non vorrei che ce ne andassimo troppo lontano dallo schema della nostra domanda su questo poi eventualmente ci ritorniamo credo che con la strage di Bageria per il momento non c'entri niente dicevo lei ha subito un procedimento per tale fatto e ha detto che è stato condannato a 30 anni insieme a lei è stato condannato qualche altro quindi è stato l'unico imputato non mi ricordo bene se mi sembra che è stato condannato mio zio o dopo è stato assorto suo zio Filippo e allora con riferimento alla strage di Bageria che cosa ricorda di questo episodio che cosa avvenne ricordo che è stato Pino Greco e ci aveva dato ordine di andare a prendere una macchina di grossa cilinciata perché ci dovevano spostare a Villa Abate ci ha dato ordine che significa a lei e a chi? a Lucchese Lucchese Giuseppe e a Lucchese Giuseppe siccome già noi avevamo delle macchine conservate macchine rubate però siccome lui ci aveva chiesto una macchina di grossa cilindrale siamo andati a prendere siamo andati all'aerocerca di questa macchina di grossa cilindrale quando avviene quest'ordine questo incarico ma è stato prima di Natale prima di Natale due giorni prima di Natale un giorno prima insomma la vigilia di Natale non abbiamo rubato questa macchina sì io e a Lucchese ci siamo messi alla ricerca di questa macchina e dopodiché arrivati a piazza Sant'Erasmo vediamo una BMW 520 quattro sportelli posteggiata con le luci accese diciamo sul macciapiede quello che c'è al centro di Sant'Erasmo che porta a Marina c'è il macciapiede qua c'è la chiesa di Sant'Antonio quella di di Mone dove ci sono le bari e di fronte c'era una pescheria non quella di tagliavia ma quella più avanti in questa strada vediamo questa macchina e ci si accosta con la macchina nostra per vedere se c'erano le chiavi inserite sul cuscotto e vediamo che c'erano le chiavi ci posteggiamo più avanti io scendo dalla macchina prendo la BMW e me la vado facciamo il giro della via linko perché ci veniamo a girare un passare là davanti perché ci potrebbe essere proprio facciamo il giro della via linko e andiamo via via Chieraffe e portavano questa macchina vicino alla roccella in questa roccella c'erano delle macchine posteggiate diciamo si entrava in questo complesso di case non c'era né cancella né niente e c'era questa andronica là dentro si posteggiava dalla macchina e abbiamo posteggiato questa macchina là dentro dopo c'era stato dato sempre ordine da me da Scarpa che all'indomani si doveva prendere sta sta BMW con con la 128 che già disponevamo noi nel garage di Angelino Baiamonte dice dove decce domani mattina alla alla caccia Struzzi quindi l'indomani mattina che giorno era l'indomani mattina era Natale il giorno di Natale si che succede che all'indomani mattina io prendo la 198 che c'erano anche delle armi dentro la 198 che armi erano se non ricordo c'erano 38 357 magnum e fucile Cannamoza con delle borse praticamente arrivato là alla caccia Struzzi troviamo quindi lei prende la 128 la BMW che fine sa? la BMW la porta Lucchese la porta Lucchese anche con delle armi che lui aveva portato anche un buon giorno con delle armi e di chi erano queste armi? queste armi venivano sempre diciamo anche loro avevano un numero di armi pure loro conservate di caculle quindi loro chi intende? perché dipende dove si doveva fare un'azione si doveva commettere qualche delitto la famiglia che ci veniva più vicino che avevamo più a tiro corto si andavano per lavare queste armi e si facevano anche loro avevano le loro armi che le tenevano a caculle che però erano quindi erano armi della famiglia di caculle mentre quelle che c'erano la 128 erano della famiglia di dove? di corso dei mili di corso dei mili quindi queste due macchine le portate dove? arrivate alla caccia suzze e che noi avevamo anche le chiave della caccia suzze abbiamo aperto e aspettiamo che arriva e arriva Pino Greco mio fratello Marchese Antonino è Giovanni Fischi anche egli uomo d'onore? si di caculle Giovanni Fischi e mio fratello anche di caculle di caculle come mai questa differenza di appartenenza di famiglia mafiose tra lei e suo fratello? dipende delle persone che uno frequenta perché se uno frequenta le che so famiglie di voglio dire di Borgovecchio mi metto a frequentare ancora che non sono comprobato mi metto a camminare con tutto Cucurza e quindi suo fratello chi aveva frequentato di caculli per essere figli? mio fratello da da molti anni frequentava i Pesti Filippo Peco Lucchese per esempio Lucchese mica è di Lucchese dalla cassa però è stato combinato a caculli nella famiglia di va bene mi basta questa risposta insomma dipende dipende da dove ci sono diciamo le volevo semplicemente capire a che cosa risalisse questa differente affiliazione per famiglie quindi arrivano alla Calcestruzzi aveva detto chi? Pino Greco mio fratello è Fischi suo fratello Antonino è Fischi Giovanni e ci avviamo e ci mettiamo dentro le macchine e si sono proprio mi scusi una domanda quando Pino Greco vi dà l'ordine di andare a rubare le macchine vi dice per che cosa serve questo furto oppure vi dice genericamente si diceva che hanno detto che dovevano uscire fuori dovevano andare a Bageria dovevate andare a Bageria però l'obiettivo da colpino non si sapeva non si sapeva va bene va davanti almeno io non lo sapevo allora che succede che io e Giovanni Fischi ci mettiamo nella 128 e io mi metto al lato guida dopo accanto a me si ci mette Giovanni Fischi nella BMW si mette Lucchese alla guida Pino Greco di davanti accanto a Lucchese e mio fratello di dietro facciamo strada e ce ne siamo andati a a Bageria arrivato a Bageria avevate un punto d'incontro sì c'eravamo un punto d'incontro che proprio appena entri dal ponte che imbocchi per dentro Bageria c'è la fabbrica di ferro di Nardo Greco Nardo Greco chi è? uomo d'onore di Bageria uomo d'onore di Bageria lo troviamo davanti proprio al cancello seduto dentro la macchina lui accende la macchina e ci fa strada e non ha perso a lui e andiamo permetto che loro si erano pallati quando sono arrivati Nardo Greco non so che cosa si sono detto quel finestrino abbassato quando siete arrivati alla fabbrica si 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 e Nardo Greco fa strada avanti lo avanti l'abbiamo in buo e noi appresso appresso a loro e ci porta nel ristorante che si chiama il carretto in questo carretto lei già conosceva questo ristorante lo conoscevo perché altre volte c'erano dei incontri qua c'è un metonore là in questo carretto e c'è diciamo il piano superiore c'è la sale e giù c'è uno scivolo con le scantenate che si fa a finire sempre che fa complesso con le inco il ristorante quindi vi porta al carretto cosa avviene poi niente arrivando al carretto là davanti troviamo Nino Algano che è sempre della famiglia di Bagheria e Giovanni Nino come scusi Nino Algano Gargano Algano Gargano o Argano Gargano Gargano con la G con la G sì della famiglia di Bagheria poi e in più troviamo anche Giovanni Scaruto che sarebbe il genero di Salvatore Greco il senatore e cognato di Giuseppe Giuseppe Greco 1 e 9 lo troviamo dentro questa golf cioè dentro una golf si ricorda che coloreva questa golf è una golf grigia una golf grigia che succede che noi ci siamo messi a girare dove rimane là noi ci siamo messi a girare intorno là diciamo nei press di quel posto voi quindi chi io con la macchina con la 128 con l'ufficio con l'abmw greco con l'uchese e marchese antonino e marchese antonino quindi cominciate a girare l'intorno dopodiché cosa avviene dopo di che succede che mentre che giriamo quindi greco leonardo che cosa fa resta resta là davanti il carretto insieme agli altri due che avete incontrato si si lei fino a quel momento non sa qual è il il piano no quindi che cosa fa come fa a muoversi praticamente noi andiamo a pressa all'abmw all'abmw su cui c'è vino greco che succede che mentre che stiamo per girare vediamo un altro greco che faceva geste con la mano di far muovere l'abmw avvicinasse l'ano si è avvicinato e gli ha chiesto si sono messi a parlare non so di cui capendo che gli ha detto che quelle si erano andate perché quelle si erano fermate nel carretto forse hanno visto qualche cosa di strano quelli chi saloperi pietarrese chi pietarrese e caruso quell'acce dell'altra macchina che ci faceva perché questi erano e lei questi nomi quando li apprende li apprende io dopo quando quelle sono state ammazzate praticamente quindi in quel momento vede soltanto si nardo greco che fa segnale di ma premetto che già quando io partecipo in questi omicidi così importanti capisco che per questo non facevo nessuna domanda a nessuno di loro che cosa si fa seguivano e base quello che ci dicevano ci davano ordine di fare e base e capivo che si doveva fare qualche cosa di importante infatti i petarrese poi ne parleremo poi le chiederò chi erano andiamo avanti nella descrizione di questa azione ci siamo messi alla ricerca di questi che sono andati però noi andiamo a presto alla BMW camminando si boccano invece di bagheria che portano nell'autostrada prendono la strada diciamo vecchia e si vede la Golf che cammina la BMW accelera quando sta per arrivare sulla Golf Pino Greco esce con la scopetta col fucile tira una scopettata una tirata una scopettata u petarrese da un colpo di freno alla macchina si pianta la Golf e la fucilata praticamente non è più è entrato dal finestrino dallo sportello ma bensì ha passato davanti il parabrezzo non colpendo la macchina quello che il pietarrese che io già pietarrese a questo di qua già io li conoscevo non come un modonore ma li conoscevo che erano portavano dei cami in una ditta della Zarone dove facevano aggiustare in più dopo si diceva anche che contemporaneo dopo con le omicidi si parlava anche che questo era un cornuto a portare la macchina infatti la preoccupazione qual è stata quando dice questo se non è andato con la macchina quando lo pigliamo più perché c'era col figgetti e una col figgetti bianca era quella loro cammina cammina lui invece dipende dalla torsata si mette dentro il paese lui chi è? pietarrese pietarrese e noi con la bmw e la 128 perché dopo il risultato è che la 128 andava più forte della bmw la 128 e la bmw non camminava per niente era tipo un guirfato non camminava e io con la 128 mi sono attaccato dietro alla colfe perché arrivando dentro il paese che c'era questa fessa che era Natale la confusione quello automaticamente doveva rallentare e noi dentro la macchina stessa io con la pistola quello con fucile sparavamo pure dietro a loro infatti nella 128 sono rimasti anche i due fori quando ho sparato mentre che guidavo quindi ha sparato dall'interno dell'abitacolo macchina dei bagheresi che vi faceva la staffetta e c'era la macchina di Giovanni Scaduto con Nino Antonino Gargano con Antonino Gargano quindi eravate sostanzialmente tre macchine all'inseguimento di questa golf lei aveva fatto riferimento pure ad un'altra macchina quella su cui c'era Caruso che cosa era sta macchina quella che era Caruso era praticamente quella di guardaspalle di Petarrese che però non l'abbiamo più vista perché l'obiettivo è stato di prendere da quella perché quella si sono date e che macchina era questa una 112 si sono date subito a gambe e chi c'era solo Caruso c'era no c'era Messicato Vitale Messicato Vitale chi? il personaggio Totuccio Pietro detto Totuccio era amputato questo nel Magisbis quindi o nel Magisterre insomma parliamo di un uomo d'onore si di quale famiglia di Villabate di Villabate il Caruso invece lo conosceva? no io non lo conoscevo e neanche a lui lo conoscevo che fine ha fatto Caruso? Caruso è stato ucciso all'indomane sempre da Fische da Pinogreco quindi questa macchina che doveva fare da copertura ai Pitarresi e a Di Peri si si allontana per i fatti propri sostanzialmente quindi e poi c'è quindi allora la macchina dei dei Pitarresi e di Di Peri inseguita da tre macchine da due macchine perché quello è scaduto praticamente si è trovato scaduto infatti c'è stato Pinogreco che ha detto ci sono pezzi immesarabili perché non ci metteva il nome in suca la macchina perché quando loro hanno imboccato quella parte che ha fatto macchia indietro in velocità e ha girato scaduto è stato visto dai Pitarresi perché è rimasto proprio un bloccato un mezzo assato e non ha fatto nessuna reazione un bloccato con la macchina e quello l'ha visto perciò lui Pinogreco gli ha detto dopo in secondo invece i pezzi immesarabili sempre quei scherzi che si facevano che ci potevano mettere avanze e non fare muovere invece le macchine sono lì è impassibile e quell'anno passato e noi nell'inseguimento e voi andate all'inseguimento lei spara dall'interno dell'abitacolo della 120 quando c'era una distanza corta eravamo già a distanza corta perché che cosa avviene quindi in questo inseguimento cosa c'è c'è la Golf e poi ci si avviene con la 128 e la BMW lei spara e che cosa avviene gli colpisce non li colpisce si prendo il parabrazzo anche quello Fischer ha sparato e ha preso il parabrazzo insomma il parabrazzo di Diego della macchina della Golf quindi il 1-8 posteriore il 1-8 della macchina che succede quando arriviamo dentro il paese che c'era confusione che lui automaticamente doveva rallentare io con la paura che lui si svincolava dal traffico dalla confusione delle persone e poteva sfuggire con la macchina tutta in velocità mi ci sono lanciato sopra con la speranza che si bloccasse cioè lanciato sopra che significa cerca di 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 tamponarlo si ho cercato di tamponarlo infatti e lo tampono si lo tampono e che cosa succede siccome è la 128 che c'è il motore davanti l'entrata del paraurte è davanti ha bloccato il motore della macchina che guardavo io insomma non è partita più si è spenta io lascio la macchina in folle in modo che arrivando quelle di dietro avevano uno spazio per poter passare quelli di dietro erano chi? Pino Greco con Lucchese e mio fratello quindi quelli con la BMW si si loro passano noi che rimaniamo là abbiamo soltanto perché si è formata subito una confusione di gente che correva adesso lasciamo la macchina gli uffici e ci diamo diciamo menzi di vicola del paese abbandoniamo la macchina e ci diamo menzi di vicola e quindi scappate e quindi scappate come? a piedi a piedi che succede? avevate un obiettivo avevate un obiettivo da raggiungere in quel momento no perché da dove eramo già dentro il paese arrivare a carretto c'era un po' di distanza perciò dovevamo andare a uscire fuori a strada quindi siete andati in fuga diciamo così alla cieca sì che succede che noi mentre che scappavamo sentevamo degli spari e pensavamo che allora già stanno facendo l'hanno fatto perché sentendo gli spari già l'hanno bloccata l'hanno presa quanto dura questa fuga a piedi? beh questa fuga può durare 10 minuti 10 minuti un quarto d'ora una cosa del genere mentre scappate le potrà sembrare inutile la domanda? c'è qualcuno che vi insegue che che no non c'è nessuno che ci insegue però strada facendo l'abbiamo fatto noi quindi voi scappavate o camminavate velocemente? no camminavo a passo lungo praticamente senza correre e dare all'occhio alla gente le armi che fine avevano fatte? le armi abbiamo abbandonato delle armi e in più ci siamo portati delle pistole perché io ho preso anche una pistola ma sono messa addosso quindi avevate soltanto armi mi sembra che è rimasto un fucile dentro la macchina sì e delle munizioni quindi lei dice che dura una decina di minuti questa fuga a piedi cosa succede? succede che mentre stavamo camminando nella sponda della strada diciamo fuori diciamo accostare il paese del bagheria vediamo arrivare Nicola Eucalyptus la macchina chi è Nicola Eucalyptus Nicola Eucalyptus è un motore di bagheria quindi arriva con una macchina con una macchina una macchina bretta una cosa del genere sì un bretto un bretto metallizzato ci cade sulla macchina e anche lui stesso ci dice che era stato incaricato di seguire l'azione ci porta nelle vi dice da chi era stato incaricato? LuSkypa LuSkypa ci porta in una casa in campagna ci fa aspettare in questa casa non c'era mai stato praticamente era la prima volta insomma era una casa arredata in campagna poi va nella campagna lui se ne va se ne va per andare a vedere il controllo la situazione per portarci qualche notizia di come è andata la cosa se è tutta bene perché pensando se quelle avrebbero riuscito a scappare aspettiamo un paio d'ore e dopo ritorna ritorna di nuovo ritorna di nuovo chi? questo è Nicola Eucalips Nicola Eucalips e ci dice che praticamente c'è il spirito di Sania non c'è nulla c'è tutto a posto tutto a posto infatti mi ha incaricato a me i picchiari per accompagnare chi è che vi ha che era Greco Greco Scarpa lo aveva incaricato di accompagnare i picchiari appena dice cascaima diciamo un movimento della polizia come dice i picchiari poi accompagna lui arrivando ci disse che è andato tutto bene c'è chi dice ammazzare e ha un subitare praticamente ti accompagna dove allora a questo punto ci accompagna la calcestruzzi perché la calcestruzzi avevo la macchina la 126 di mia zia rosa che spesso noi nei punti dove i punti che frequentavamo avevamo sempre qualche macchina una 126 un'altra macchina la 500 vabbè la calcestruzzi lei trova la 126 e che cosa fa se ne va da solo no mi porta a figlio e l'accompagna a casa e l'accompagna a casa e eucaliptus cosa fa eucaliptus se ne va se ne ritorna lei quando apprende quindi quello che era avvenuto con maggiore precisione a parte queste brevi notizie che le aveva dato eucaliptus io l'apprendo praticamente la sera che io mi vedo quindi sempre la sera di Natale sì io mi vedo la sera colpino greco scaipozzede con mio fratello a piazza d'ora lunga dove a piazza d'ora lunga sarebbe a corso dei mille sì dico in un in mezzo alla piazza davanti al bar c'è un bar il bar coolmans e niente praticamente questo bar gourmands come lo chiama lei di chi è? di Filippo Marchese era gestito da qualcuno? di Pionuzzo un lupo ah quindi detto pure bar lupo no non lo so se ci si chiama un bar lupo lupo perché si chiamava lupo lui il cognome va bene va bene quindi questo bar gourmands e quindi cosa avviene? che cosa avviene? niente loro mi avevano detto anche Venugreco mi aveva detto se sapevano un fatto di chi ci dice ma che andava nel 1928 perché la macchina era schiaffiata propria che non camminava e niente mi dissero che praticamente quindi le dissero i soggetti per piacere Pino Greco con mio fratello che stavamo parlando suo fratello chi? Antonino Antonino ci disse che praticamente lo Pitarresi Antonino ti ha fatto conto che lo Pitarresi Antonino non lo può mai portare perché Pitarresi Antonino chi era rispetto all'altro Pitarresi? era il padre il padre di Biaggio di Biaggio quindi che cosa quindi che cosa le dice ricapitolando che Pitarresi Biaggio e Di Peri che cosa fanno? Di Peri o Biaggio ammazzano nella macchina dentro il golf dentro la golf l'altro l'altro invece se lo portano e mi diceva anche ridendo mio fratello da fare un conto che ne finirono pure i pallotti e ne lo fanno a portare a chi? a quei pepistoli anti-ex a finire arrasare poi cioè noi stiamo nati in un terreno di ruolo in un'idea griega quindi Pitarresi Antonino viene portato via perché erano finite le munizioni apprende apprende altro circa questo episodio cioè la se perse la vita qualche altra persona sì ho preso dopo tramite il giornale che era era rimasto un pensionato nel momento della sparatura era rimasto c'era rimasto un pensionato era stato ucciso quindi una persona che si trovava lì casualmente è così? sì sì ancora quale fu la causale anzi prima di passare alla causale chi sono i Pitarresi e chi è Diperi o chi erano meglio i Pitarresi erano i Pitarresi erano diciamo i padroni di Villabate che significa i padroni i padroni erano erano uomini d'onore sì sì mi sembra che all'epoca c'era anche questo mi ricordo se era o Pitarresi o Diperi che era capomandamento insomma aveva una carica importante però non so se era o Antorino o Diperi e perché vengono uccisi allora questi tre uomini d'onore quello che ho preso io da Marzia è stato perché questi erano sempre della corrente Stefano Bontate quindi appartenevano al gruppo di Stefano Bontate ha sentito parlare di una possibile causale dovuta a concorrenza nella vendita di Calcestruzzi con suo zio Marchese Filippo sì questo l'ho preso io quando è stato nel processo che mi hanno fatto a me praticamente e c'entrava questa causale no non c'entrava proprio niente ma siccome qua ci sono dei discorsi un pochettino ingramogliati c'è stato che posso dirlo sì che tipo di discorso c'è stato che quando hanno restato a me sempre quel famoso porto d'arma quello del quale aveva cominciato a parlare io mi stavano rimbasciando che avevano soltanto trovato una pistola perché la mia pistola stavano mi avevano portato in quest'ora sì e ci dovevano soltanto dovevano rispondere soltanto dalla pistola di Peppuccio Spadaro quello che avevano restato con me sì ora mentre che eravamo nella macchina della volante perché sono arrivati anche i rinforzi io che eravamo io e Peppuccio Spadaro legati con le manette qua e accanto a lui c'era anche un poliziotto e quelli due davanti Giovanni inchiappa quello che era stato arrestato pure insieme a noi è salito con un'altra macchina con la polizia mentre che ci stanno portando in questura io mi faccio scivolare la pistola e il possello con i cabzi me la faccio scivolare e la metto sotto il seggiolino della polizia lato guida quindi lei è seduto dietro a quello che porta la macchina dietro a quello e fa scivolare questa pistola sì e nessuno se ne accorga no 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 perché in più io facevo segnalo a Peppuccio Spadaro di dare un po' di estrazione alla guardia che stava accanto a lui quindi come siete collocati dietro allora siamo collocati Peppuccio Spadaro era in mezzo in mezzo io ero sulla sinistra dietro il conducente e la guardia diciamo il poliziotto era sulla testa accanto a Spadaro sì e quelle due davanti una che guidava l'altro diciamo ed eravate ammanettati chi? lei è Spadaro è Spadaro quindi lei aveva una mano libera sì sì ecco allora ho preso queste cose e le ho portate sotto il seggione della macchina che dopo io ero incensurato non potevano fare bene niente potevo uscire subito dovrebbe parlare per piacere più chiaramente essendo che ero incensurato sì e io se per esempio sapevo che potevano risalire potevano risalire questa è una cosa che momento in cui io mi trovai dopo con questo ma da di cattura pensando se io sapevo un fatto del genere che mi dovevano condannare e dovevano risalire a questa strage di bagheria ma io la pistola non la mettevo sotto il seggiolino ma bensì essendo che siamo al corso dei mille che è la zona dove è la zona nostra io la pistola ce la potevo mettere in testa all'autista e portarmelo dove volevo io invece ritenendo di essere incensurato siccome io ero incensurato tutti questi problemi non ce l'avevo e cose andiamo in questura ci interrogano e ci interrogano per il fatto della pistola di Spadaro Spadaro dice sì è la pistola mia perché già là dentro la stanza quando è arrivata anche in chiappa ci siamo appattati quello che dovevamo dire cioè aveva avuto il tempo di accordarvi sì che io ero senza patente allora io sono andato a trovare a Perpuccio Spadaro per farmi accompagnare a prendere questo ragazzo che fa impianti elettrici attaccare la luce a casa mia perché mia mamma doveva entrare da fuori e veniva ad abitare in questo appartamento allora io sono andato a prendere questo ragazzo per farmi attaccare la luce e Spadaro mi ha accompagnato in quanto lui aveva la patente insomma l'avevo impostato in quel modo dopo con chiappa vedendo che i corsi si complicavano a lei mi dedisci a un passaggio che vuoi che ti dico insomma abbiamo girato i discorsi un pochettino così quindi si doveva accollare diciamo così usiamo questo termine il porto di quell'arma soltanto Spadaro Spadaro Giuseppe Giuseppe che succede che quando ci interrogano e Spadaro ci dice sì la pistola è mia perché noi abbiamo una cosa di salumeria dove la sera fanno molte rapine allora per motivi di precauzione sicurezza teniamo un'arma che succede? niente ci portano in cammino di sicurezza aspettiamo che all'indomani ci debbasciano ci portano lo ciardone a me non mi contestano nessuna cosa all'indomani o la notte non mi ricordo di preciso insomma all'indomani mi sembra che è stato mi mi mandano a prendere e mi interrogano perché dice che durante la sera la notte non mi ricordo bene quella macchina che andava in perlustrazione in una in una brusca frenata ci è scivolato sotto il seggiolino questa pistola e questo bosserlo dentro i capi di munizioni siccome avevano fatto soltanto quell'arresto quella volta che ho salito non puoi essere questa pistola e ci mandano a richiamare io sempre dico che la pistola non è mia perché logicamente a me ci ho detto mi hanno fatto trovare la perquisizione non mi hanno trovato nessuna pistola nessuna cosa e ci sta a sud ora vogliamo mettere a fare entrare per forza questa cosa va bene va bene va bene il spadaro conferma pure io non so niente di questa altra persona io ho confermato c'era questa persona qual è il problema il problema è che la pistola di spadaro e quella mia avevano la stessa impugnatura erano il stesso modello le pistole e che dice essendo che il marchese era seduto di dieci che ho salito un po' quando a me mi viene a interrogarmi sembra che è stato il giudice Pignatone io mi mi dispolpo di tutte queste diciamo accuse che mi hanno fatto io ho detto che la pistola non è un lago ma una pistola si nota quando fanno la perquisizione c'era insomma io vengo vengo portato in isolamento arrivando a Luciardone mi portano alla nona sezione alla loro sezione appena arrivo già loro avevano saputo che a me mi hanno arrestato perché c'era un momento all'altro che arrivavo là loro chi sono? Giovanni Pullarà Giovanni Battista c'era Uppaccaret Uppaccaret Gerlanda Berti Gerlanda Berti c'era anche tutte quelle del bistro della Grazia ma Gerlando Alberti quale? Il grande o il piccolo? Il vecchio il vecchio quando siamo arrivate quando siamo arrivate c'è stato c'è stato che è uscito e hanno aperto il cancello hanno aperto il cancello e mi vedo Pullarà Giovanni Bontà Giovanni Bontà dei altri personaggi da dentro diciamo altri che erano un po' nono che già io conoscevo quelli che erano arrestati nel bistro della Grazia accogliermi come quando uno fa trovare una persona a casa vede questa accoglienza ma non doveva andare in isolamento lei? Isolamento in modo di dire che significa per modo di dire? all'epoca a Palermo non c'era isolamento c'era la cella singola per comodità però però stavamo praticamente in isolamento però in un momento che dovevano andare a mangiare chiamavano la guardia tala rapa e ci fanno venire a mangiare nella cella con la cella lei vuole dire che mentre era in isolamento giudiziario le aprivano la cella andava a mangiare con gli altri è stato ricevuto come se fosse un ricevimento di grande importanza ed altro e questo è il significato? si si è consapevole di quello che sta dicendo? è consapevole si vada avanti c'è stato praticamente che io perciò raccontando il discorso anche allora mi sembra che c'era anche il fratello di Lucchese Antonino che quella sera ci avevano fatto upui fratello di Lucchese Antonino è uomo d'onore si si anche gli uomo d'onore di quale famiglia se lo ricorda? di Ciaculli di Ciaculli c'è stato che insomma si è parlato dopo con anche con la ragione di Manbattista il fatto di stare adesso ho fatto la pistola e mi hanno detto che stanno vorremmo fare o a direttista ma vedremo se magari sarà con la pura Puccio e tu riesci a Pede Libro per Puccio Spadaro questa cosa dice no mi dice come faccia accolta un'altra pistola insomma praticamente non si è voluta accolta queste notizie io sono stato perché dopo mi è venuto a interrogare un altro magistrato sempre riguardo queste cose dopo c'è venuta la notizia a noi sempre dall'esterno dicendo lei è ancora in isolamento in isolamento è stato in isolamento perché io praticamente ancora dovranno vedere se mi dovevano dare mi dovevano fare il processo direttissimo o la procedura che ho fatto dell'arma comunque lei è ancora in isolamento in isolamento passano passano giorni settimane e cose io ancora in isolamento arriva una notizia dall'esterno è stato Pullarà e c'era Peppi Puzanca che questo era anche della famiglia del corso dei mili e ci dice cosa fanno sapere il fuor Fuzzo sarebbe mio zio che avessero comunicare avessero affare nessun avrei qualche mannata di cattura passaggi bagheria passaggi bagheria ma la pistola era pulita la pistola non c'entra niente quella che mi hanno trovato a me perché quando andavo in giro non portavo addosso pistole già usate per qualche omicidio pistole pulite dice no la pistola c'è una telefonata anonima che per questa strage di bagheria indagata su Giuseppe Marchese questa cosa è stata distaccata di bagheria e le indagini era tutte piombate in quel periodo là hanno passato tutto a costo dei mille cioè l'indagine era piombata su lì che significa cioè si indagava sul gruppo di bagheria sì perché all'epoca le indagini erano che stavano a fare per vedere se erano i contrasti con i barioti con i paesi insomma da dove poteva nascere queste muette quindi arriva lei sa che è arrivata questa telefonata anonima che invece individua lei come responsabile della strage ora che fa quando gli arriva questa telefonata anonima a lei chi lo dice intanto questa notizia mentre in isolamento chi gliela porta questa notizia ci arriva da Pippo Giuseppe Chiaracane Salvatore l'avvocato della famiglia di Corso dei Mille cioè era uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille sì e l'avvocato ve la porta dove cioè l'allora avvocato Chiaracane chiamò un cliente qualsiasi di quelle che lui aveva la nomina e gli ha spiegato questa cosa chiamò e gli dice fa fuzzo e gli fa sapere a pronuncio che ha fatto pazzo perché nessuno ci ha fatto un'accomuna che era qualche mano di cattura per stragi quindi mentre lei in isolamento riceve questa notizia questa notizia se lo ricorda chi gliela porta mentre lei è in isolamento ad esempio Giovanni Pupo era Giovan Battista Pippo Zanca o Spadaro perché dopo c'era stato ma Pupo Spadaro dall'isolamento l'avevano tolto e io ero rimasto in isolamento perché che c'erano che c'erano si danni in costa ma le varie su managicatture che succede che che dovevo fare essendo che io da tanto tempo mi trovavo in isolamento per motivi questo portodamme ancora non si sapeva niente dei sassaggi perché era una cosa che hanno saputo loro dall'esterno io comincio prima che mi arrivassi in managicattura ha cominciato a fare il pazzo che significa cominciato a fare il pazzo dare i numeri mentre la scassa le cuase dicendo che questa volta mi hanno mandato a dire di fare il pazzo e rivolgendomi nei confronti di mia madre dicendo che mia madre mi vuole tenere qua dentro si è messo d'accordo con l'arce insomma la malattia era basata su quel cioè lei simulava la malattia attribuendo a sua madre questa volontà che era lei che mi vuole tenere là dentro tutte queste cose era stata lei a mettermi sta pistola per farmi accusare mi spia mi controlla dentro lo spioncino tutte le manie persecuzione di cui mi ha insegnato Marchese Antonino quelle che cosa si doveva fare perché Marchese Antonino è stata in mani come c'è anche delle vecchie esperienze già quando c'era lui io ci andavo a trovare già si sapevano quali erano le passe di fare in matto anzi mi meraviglio che succede che facendo il pazzo io mi trovo e faccio l'attentrata in peccagione perché poi l'armi è stata in peccagione perché noi ci parliamo di come c'erano i bocchi di lupo in peccagione qua senti che io mi scelgo copiare ci rimango vabbè e mi sono straffinato il cuore allora con il sacco mi sono straffinato il cuore loro hanno parlato con il lavorante perché c'era l'orario che doveva passare quello col pane c'è chi sta appena parla passa che già è baccaghiato siccome già c'era il precedente che io già la reddavo i numeri ero più guardato diciamo dalle guardie levato questo passa io mi faccio trovare seduto con il suo lazzo nelle mani però nelle mani dico quello mentre a gridare se ci stanno peccando se ci stanno peccando io quando viene a guardare proprio mi faccio vedere su cosa era attaccato là mi pullarà tutti gli acce perché erano tutti aperti mi buttano per terra mi fa pullarà per respirazione bocca a bocca in fermeria e l'infermeria vado a trovare la i letti di contenzione mi tengono la carta e io accusare ancora bubù mia patria mia madre per esempio dopo mi arriva il cantone mutisimo mi sembra che si chiamava il giudice mi viene interroga visto quattro assaggi di bagheria ecco nel frattempo era stato emesso un provvedimento nei suoi confronti sì sì il fatto di questa assaggia di bagheria che in quanto avevano con quella diciamo con quella telefonata che dopo telefonate che non lo so da dove arrivano si telefonate che spesso arrivano uscendo le telefonate anonime che erano anche 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 all'epoca noi abituati a fare queste cose si telefonate anonime questa cosa questa cosa essendo che a scala con lo sud me sul corso dei mili ma anche se Filippo anche vanno a fare l'indagine dove con la macchina hanno fatto l'indagine trovano un'impronta quale macchina era la 198 che ho abbandonato trovano un'impronta sullo specchietto ed è la c'è stata la conferma della sacchia del bagheria cioè trovano una sua impronta digitale si niente dopo insomma io ho messo a fare in matto mi portano a Reggio Emilia quindi lei dice viene il giudice istruttore Marcantonio Motisi a interrogarla lei continua a fare il pazzo la portano e mi portano dopo dopo un po' Marcantonio Motisi non mi voleva fare muovere infatti c'era animatonia che si trovavano in infermeria c'era Armando Bonanno Giuseppe Madonia Ciccio Madonia insomma tutte queste persone che si trovavano là perché da dove ero legato io ogni tanto loro scendevano e mi portavano a mangiare mi dice continua a fare così perché i chiedi dicono non ti vogliono fare fight noi stiamo parlando di chimie a cercare e dice che diventa una buona relazione insomma io ho fatto anche lo sciopero dalla fame ti pagrivo tante e tante chili arrivo a un punto che dopo mi devono sbagliare per forza che vengono e mi dice ma che stanno morendo perché già le persone le abbazze eccetera mi hanno portato su infermeria e mi hanno fatto la febbrocris in Madonia mi fanno da mangiare carne frutta cos'è le faccio benzina nel senso che mangio appena fresco i mangiare attacca il rere perché ci attacca perché l'unica speranza perché si ritorna perché si arresta il ca chi si tocca pace perizie vanno tutte cose a muore perché stavano vedendo di far aggiustare far risultare la perizia che ha fatto Paolo Giacone e farla risultare negativa di quello che hanno giocato che perizia era quella che aveva una perizia di impronte digitale sull'impronte Paolo Giacone il professor Paolo Giacone quello che è stato ucciso si e succede che insomma dopo appena ho messo a rompere tutto ho scassato un citofono di guai sono andato nudo all'area insomma tutte queste cose mi hanno pensato mi hanno portato di nuovo a letto di contezione ho stato legato là dopo un po' è arrivato dopo un paio di giorni perché sono stato là qualche mese legato mi hanno portato a Reggio Emilia è arrivato a Reggio Emilia là dopo ero in osservazione va beh di questo parleremo dopo per un altro episodio invece desidererei chiederle visto che lei ha fatto riferimento al compianto professor Giacchone questo omicidio del professore Giacchone per quello che è a sua conoscenza è collegato lei ne sa qualcosa è collegato alla perizia che fece in suo danno per la strage di bagheria questo è stato mio zio Filippo che ha fatto pressione alla commissione per trovare un provvedimento perché ha 18 anni sa che non ha pagato una cosa che praticamente non esce più in caliera perché quello a tutti i posti voleva risultare la perizia come diceva lui e cioè come diceva lui si si loro però la volevano fare modificare perché si questo l'ho capito quindi loro avevano saputo avevano preso anche una perizia della Cassazione che aveva fatto tutto il carnevale nei confronti io l'ho bocchiato Giuseppe l'ho bocchiato Giuseppe che era stato condannato non so per quale omicidio ci avevano trovato un'impronta queste cose me ne parla a me Giovanni Pullarangio Pabbattista che dice abbiamo pagato un occhio per questa sentenza di l'ho bocchiato Giuseppe l'ho bocchiato Giuseppe uomo d'onore si uomo d'onore di quale famiglia si sempre di loro cioè di? di Santa Maria di Gesù di Santa Maria di Gesù io non ho capito come ecco neppure neppure io c'è stato c'è stato quando noi ci trovavamo con Pullarà e all'Ucciardone che si parlava quando c'è stato il maggiore di processo che si stava sempre all'epoca che ancora mi dovevano fare il processo si stava vedendo di fare modificare questa perizia dovevano fare il processo quale? quello di bagheria? sempre quello di bagheria sì 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 d'accordo io sono sceso da Reggemila quando c'è stato un anno e qualche mese a Reggemila si è fatta questa perizia d'atteloscopio e stavano vedendo modificare o che ce la faranno insomma però dopo a parola il risultato è che non era suo non era mio mi scusi io però volevo ritornare un attimo al professore Giacone ecco c'è stato che io mi sono trovato con Giovanni quando sono sceso da Reggemila sono arrivato all'Ucciardone perché la perizia mi hanno fatto a me a semi-infermo a semi-infermetà a me non mi serviva mi serviva la totale perché la semi-infermetà era da prendere sempre là la condanna si gira là allora scendendo a Palermo mi fanno sapere dice attacca a Riera a me a Palermo non mi portano nella sezione dove erano loro ma perché io avevo il divieto d'incontro con Pappuccio Spadaro e mi portano alla terza sezione alla terza sezione dove c'erano altri ragazzi che io conoscevo che dopo anche in Madonia si sono interessati stavano e dice a me ne ero penuzzo mi raccomando non ci facete mancare niente c'è stato un campionato una cosa del genere insomma ci siamo incontrati dopo che c'è stato il festeggiamento diciamo di questa partita di pallone e ho avuto possibilità di vedere il mio diciamo con Giovanni Pullarà con tutti gli altri ci siamo chiusi in cucina di questa terza sezione che sono venuti e abbiamo parlato a Pappuccio Spadaro e dice all'epoca stavano venendo anche una perizia che ci avevano fatto modificare a Pappuccio lo bocchiare questa istanza di questa perizia l'avamo acquisita anche noi nel nostro processo che la Cassazione diceva che non superando i 17 punti eccetera non è mi scusi questo è un altro un altro episodio io volevo invece ritornare all'omicidio del professore Giacchone l'omicidio del professore Giacchone avviene quindi nella quasi immediatezza nell'immediatezza di questa perizia che sta facendo dei suoi danni c'è stato che la perizia che sta facendo andiamoci da un altro lato quando lei ritorna da Reggio Emilia a Palermo in questa ultima circostanza che sta ricordando il professore Giacchone è già stato ucciso o no era già stato ucciso quindi lei era partito dicendo mio zio Filippo chiede alla commissione di fare qualche cosa cioè di uccidere il professore Giacchone io le ho preso dopo queste cose in carcere quando dopo io sono stato a Temere Merese e a Ciani e allora lei quando apprende qualche cosa sull'omicidio Giacchone vede Marchese Antonino e Giuseppe Lucchese mentre che io mi trovavo a Reggio Emilia loro mi sono venuto a fare un colloquio che non potevano entrare chi è che non poteva entrare non potevano entrare c'era mio frate che all'epoca Lucchese non lo so se era canziato o l'altra tante eccetera dopo Lucchese neanche mi viene parente non può neanche entrare quindi Lucchese entra sotto Falsono mio frate è l'Antonino che fosse era canziato già era l'altra tante non so perché mio frate Antonino dopo quando ci sono state le dichiarazioni di Senaga nell'83 si è data la detanzia nell'83 ora non so però già a quell'epoca già lui era diciamo canziato però non penso non mi ricordo se era già la detanzia a quell'epoca quando è venuto nell'82 a farmi il colloquio comunque Lucchese Giuseppe entra nel carcere di Reggio Emilia con un documento falso e viene a fare il colloquio a lei si però viene a fare il colloquio a me che avevano parlato con il maresciallo siccome quando io sono arrivato a Reggio Emilia c'è stato il cognato d'Intille Francesco del mandamento di Caccamo aveva incaricato come si chiama questo cognato? Guzzino Dino Guzzino una cosa vicina Dino Guzzino quando mi trovo a Reggio Emilia io vengo chiamato di sera mi fanno gli scesenti e decido devo andare dal maresciallo arrivando dal maresciallo trovo la prima volta al suddino Guzzino io sai io sono il cacotto frate del caro e dai ci stiamo vedendo un fattore aperizio qualsiasi cosa tu hai bisogno parla al cacotto maresciallo che ha a disposizione questo maresciallo Randazzo si chiamava che succede che succede lui praticamente mi raccomanda questo maresciallo di qualsiasi di qualsiasi disponibilità interessasse per me successivamente mio fratello mi viene a trovare e mi dice che stavano vedendo in tutti i modi che è possibile fare cambiare questa perizia quella dell'impronta e quando suo fratello le dice questo il professore Giacchone è già stato ucciso o no? no ancora no e allora andiamo mi aveva detto che fossero dovevano venire a fare la perizia ma dovevano venire a fare la a Reggio Emilia quello fatto dell'impronta di farmi di nuovo un prelievo sul dito sì quindi vado avanti è successo che che praticamente io quando mi trovo dopo nel caccio del Giana mi sembra e c'è stato mio fratello che mi disse che all'epoca il suo fifo diceva che aveva fatto tutto il modo possibile per farla modificare questa perizia in più per si faceva dare anche l'ordine della commissione per chi sta ammazzarlo perché già non voleva non voleva guagliare in una maniera non voleva diciamo cambiare questa cosa per farlo risultare un pochettino domenica anche dopo quando andavamo nel processo dopo abbiamo chiesto io sono sceso al processo per la strage del bagheria abbiamo chiesto perizie psichiatrici di nuovo abbiamo chiesto una perizia in pronte perché c'è i numeri di tutto questo non si è fatto niente perché dopo mi hanno messo anche a Traina come perito nell'85 e mi è venuto a fare una perizia a Tempene Merese Traina il professore Traina si si il professore Traina che dopo c'era stato che voleva ammazzare anche a lui perché è successo che noi facciamo un colloquio io Bagarella e mio fratello che con tutto ciò non ci potevamo noi incontrare perché io nella sezione dove erano loro non potevo stare perché loro erano differenziati io venivo all'epoca da Manacomo di Avesa e mi hanno messo in una sezione normale dopo loro sono andato a parlare col direttore col maresciallo insomma dicendo sai c'è un picciote del malato lo teniamo noi sotto controllo per evitare che faccia qualche fessaria se ce l'aumento magari in sezione e magari l'area ce l'andrà a fare con gli altri della sezione normale la sezione normale era quella dove c'era Pinnuzzuleggio Veneto Capizzi e Lovete insomma altri gruppi sempre mafiosi quando andavamo a fare il colloquio c'era fatto che questo dovevamo fare la perizia e questo diceva un cuinuto e c'è e da e stavano e diceva vabbè ci vediamo comunque al limite si cittano una parola liberata e ancora all'epoca Pino Greco era vivo nell'85 aprile quando c'è stato l'assaggio del dottore Carlo Palermo io mi trovo a Tempene Merese a Tempene Merese mi vengono mi viene questa affare a palizia io ci faccio ma tu scemo chi lo che è però la perizia era quella che infatti dovevamo andare a processo perché si è preso 30 giorni però già si è saputo che la perizia non ha fatto niente e c'erano 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 che ci fanno dare una parola irreviborata noi ci abbiamo fatto sapere Ciamato Bacarella che ha fatto sapere a suo cugnato dicendo se c'erano perché prima che non mi avevano fatto sapere se due volte ci facciamo dare una parola irreviborata e c'erano e se c'è fatto praticamente c'è stato che il primo greco quando è saputo che questa cosa mi è andata male ha fatto sapere a noi che ci troviamo a temere messe se buona dice a Cristo non lo abitiamo allora Bacarella dice no e c'è chi da fare come ho fatto il palo Giacchone a Cristo si ammazzò però che facciamo la perizia cosa c'è come prima rossias è una sentenza che dà e c'è ma non il suo cugnato tutto rinno dice non c'erano dice a Cristo non fa niente perché no se non c'è passate qualche altra mannata che cattura a me e non si è fatto niente perché questo Giaina dopo perizia non sa fare a tutti a fare non sa fare in paremmo a Senaga a Pepetone insomma a tante altre persone a tutti le simulature facevano infatti la verità che succede che niente dopo io penso che praticamente è stata deliberata dalla commissione per ammazzare il progetto Giacchone quindi il professore Giacchone viene ucciso per questa perizia che fa in suo danno e in esito alla quale lei viene condannata a 30 anni per la strage di Bageria in primo grado a Leggastro dopo in appello mi hanno dato cent'anni con riferimento a questa a questa strage ricorda ricorda tutti gli altri omicidi da lei confessati se furono o erano stati commessi in che epoca della sua vita lei ha detto stamattina di avere confessato una ventina di omicidi questi 20 omicidi rispetto a questi 20 omicidi la strage è l'ultimo no? sì e lei quando commette la strage è già maggiorenne? eh sì ero maggiorenne da io a dicembre 12 dicembre avevo fatto 18 anni a me mi hanno arrestato dopo un mese a me 15 genna mi hanno arrestato quindi lei commette questa strage dopo 13 giorni che è maggiorenne tutti gli altri fatti invece li ha commessi tutti da minorenne tutti da minorenne quindi questa è la prima il suo primo reato da maggiorenne e per questo riporta condanna poi a 30 anni Presidente possiamo la strage di bagheria le 10 10 e mezza le 11 insomma nella mattinata nella prima mattinata prima di mezzogiorno sì sì quando suonavano ancora i campani possiamo possiamo in questo modo si ricorda che ore fossero quando è incontrato Eucamini dopo contemporaneamente dopo che è finita la strage ci siamo allontanati non è posto e dopo 10 minuti in un quarto d'ora ma neanche è passato abbiamo visto arrivare a lui e volevo chiedergli se ha bisogno di riposarsi un pochino mi scusi Presidente ho un avvocato Anania che parla dietro l'orecchio e sento più lui che l'imputato che dovrebbe parlare più forte chiesto se sentivo bisogno di riposarsi una decina di minuti quindi ci riposiamo tutti una decina di minuti e poi conteneremo per un'oretta vediamo un po' un'oretta forse è troppo Presidente se potessimo interrompere la dirittura andiamo a vedere questa maniera per un'oretta